Allora, non ho cancellato perché poi mi sono dimenticato di darvi quella regola di Sarrus per le matrice 3x3. Allora, la regola di Sarrus dice questo, vi riscrivo la matrice da questa parte, vale solo per le matrice 3x3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, poi allunghiamo la matrice con due colonne, ripetendo le prime due colonne, A11, A21, A23, A12, A22, A23, A32, poi prendete tutti gli elementi su queste tre diagonali e moltiplicateli. Allora, se ci fate caso, A11, A22, A33, sta qua, A12, A23, A31, sta qua, sempre col più, poi c'è A13, A21, A32, A32, dove sta? A13, A21, A32, sta qua, sempre col più. Adesso prendete e prendete queste altre tre diagonali, stavolta gli elementi li dovete moltiplicare, però ci dovete mettere il segno meno davanti. Quindi A13, A22, A31, A23, A32, A11, A23, A32, sta qua, sta col segno meno. Quindi, praticamente, la matrice 3x3 si fa diventare 3x5, poi si prendono tutte le diagonali che vanno da in alto a sinistra, in basso a destra, si moltiplino gli elementi da in alto a destra, verso il basso a sinistra, e quindi la si moltiplino e si prendono un segno meno. Quindi sono sei prodotti, infatti noi qui abbiamo sei prodotti. Ok? Abbiamo visto in verità che tramite le formule, se usiamo le formule di Laplace per calcolare il determinante, il numero dei prodotti da calcolare è n fattoriale, quindi qua sono sei perché la matrice è 3x3, se fossero, se fosse 4x4 i prodotti sarebbero 24, quindi non ci pensate proprio a una matrice 4x4, cercare di fare qualcosa di sì. Funziona perché è 3x3. Chiaro? Va bene? Quindi questa è un'altra, come dire, sottoregola che vale solo nel caso 3x3, un'altra formula che vi può essere utile per calcolare qualche determinante, nei casi concreti. 2x3. Ok? Allora, la proprietà numero 3, mi avete giustamente detto durante la pausa, l'abbiamo dimostrata l'altra volta, quindi rimane da dimostrare la proprietà numero 1. La proprietà numero 1 in realtà è facile da dimostrare perché mi ricordo alla formula di Laplace, secondo la prima riga, determinante di A uguale somma che è j che va da 1 a n di meno 1 alla 1 più j a 1 j, quindi il determinante di A grande 1 j. che significa il determinante funzione lineare di ogni riga? Significa che se io prendo qui la matrice A che ha per righe A1 fino da i meno 1, poi c'è la riga i, poi c'è la riga i più 1, poi c'è la riga fino da e. poi prendo la matrice B, chiamiamola A1, è la matrice che ha, fino alla riga i meno 1, le righe sono tutte uguali, la riga i esima invece cambia, la matrice A, anzi chiamiamola B così si capisce bene. quindi le due matrice le ho chiamate A e B, però in realtà tutte le righe sono rimaste uguali tranne quella i esima che è cambiata. chiaro? adesso prendiamo quest'altra matrice qua, C, prendiamo la matrice che ha A1 A i meno 1, poi qua ci metto lambda A i più mu B con i, cioè la combinazione lineare sulla riga i esima faccio la combinazione lineare delle righe, di A e di B. tutte le altre righe le lascio uguali, allora devo mostrare che il determinante di C è uguale a lambda volte il determinante di A più mu volte il determinante di B. questo significa che la riga è il determinante della funzione lineare delle righe, cioè se io ho tre matrici che hanno tutte le righe uguali tranne la riga i esima dove la terza matrice sulla riga i esima ha una combinazione lineare delle prime due allora il determinante della terza matrice è uguale alla combinazione lineare dei determinanti delle matrici delle prime due cioè praticamente, vedete? quando vado a fare il determinante di questo è come se io qua potessi applicare la linearità cioè io cosa faccio? lambda la porto fuori per il determinante di A, perché quando ci metto la riga i mi viene la matrice A più mu per i determinanti di B, perché quando ci metto la riga B con i al corpo a dentro mi viene la matrice B questo significa la funzione lineare di ogni riga le altre righe non le dovete toccare, cioè questo vale una riga alla O la dimostrazione è pressoché banale dimostrazione di 3 nella proprietà 3 nella proprietà 3 allora se la combinazione lineare viene fatta sulla nella prima riga la tesi la tesi segue dal fatto che A1J non cambia per nessuna per nessuna delle matrici in questione allora avremo determinante di C questo qua sarà uguale a somma per J che va da 1 a N lambda meno 1 alla 1 più J qui qua ci devo scrivere lambda A1J più mu B1J per il determinante di A1J per quale motivo? perché sia la matrice A che la matrice B che la matrice C questi qua sono gli stessi allora sviluppate la linea cioè questi sono numeri fissi questa è una combinazione lineare la potete portare pure e segue la tesi se invece la combinazione lineare viene effettuata effettuata su un'altra riga su un'altra riga la tesi C segue per induzione pensate a questo caso qua la matrice C sta ancora scritta qua quando io ando a sviluppare il determinante della matrice C secondo la formula della prima riga la prima riga mi rimane uguale il determinante di C sarà uguale a somma per J che va da 1 a N meno 1 alla 1 più J a 1 J è il determinante di C grande i J di C grande 1 J ma C grande 1 J vedete che in questo caso sono chiaramente nella prima riga che sono rimasti uguali poi qua C grande 1 J chi sarà? sarà grande 1 J tranne per il fatto che ha una certa riga che non sarà più quella Iesima sarà quella I meno unesima ci sta la combinazione lineare allora per ipotesi induttiva sulle matrici di che non sono più n per n ma n meno 1 per n meno 1 varrà il fatto che la determinante della matrice C sarà uguale a C1 J sarà uguale a lambda volte determinante di B1 J A1 J sarà uguale a il somma del J che fa da 1 a n meno 1 alla 1 più C si spavverà A1 J per lambda volte determinante di A grande 1 J più 2 volte determinante di E grande 1 J finito di sviluppare che è caduto in 2 tesi quindi la tesi è vera vediamo se ci avete capito qualcosa adesso facciamo un po' di esempi quindi queste 3 proprietà sono vede tutte e 3 per le righe almeno determinante e alternante nelle righe cioè scambiando le righe è una funzione lineare delle righe e infine della prima scusate ho detto 3 e poi il determinante della matrice identica fa 1 ok allora vediamo se avete capito io ho questa matrice 3 per 3 1 2 1 0 1 1 1 0 andiamo a fare il determinante sviluppiamo secondo la terza riga allora qua viene 1 per 2 meno 1 che fa 1 più 1 per 1 meno insomma il determinante di questo fa 2 potete farlo anche secondo la prima riga 1 per 1 meno meno 2 per meno 1 quindi 1 più 2 fa 3 1 per meno 1 fa meno 1 ok adesso vi chiedo quanto fa il determinante di questa? senza senza calcolare senza calcolare 4 non ci pensate proprio che faccia qua 2 per 4 fa 8 2 per 8 meno 4 fa 4 2 per 4 fa 8 8 più 8 perché 16? perché il determinante funzione lineare di ogni riga ma io qua non ho raddoppiato una riga ma ho raddoppiato 3 righe lo potevo fare anche una riga alla volta allora se qua ci metto questo determinante fa 4 perché ora ho raddoppiato una riga è funzione lineare della prima riga? si ma se faccio questo qua 2 4 2 0 2 2 1 0 1 quando dovete fare? da qua a qua ho raddoppiato la seconda riga è funzione lineare pure la seconda riga però se terminate fa 4 se raddoppi pure la tezza basifici o no? allora vediamo un po' se avete capito quando faccio il determinante? meno 12 ma avete capito perché? faceva 2 questo lo raddoppiato e fa 4 questo lo triplicato e fa 4 per 12 questo lo moltiplicato per meno 1 e fa meno 12 è chiaro? quindi il determinante è una funzione lineare di ogni riga il determinante è alternante sulle righe il determinante è la matrice identica fa 1 ora di funzioni come queste sulle matrici quadrate ce ne sta una sola siccome le stesse proprietà siamo in grado di mostrarle anche se non facciamo noi le abbiamo dimostrate facendo lo sviluppo secondo la prima riga ma secondo voi se invece di fare lo sviluppo secondo la prima riga faccio lo sviluppo secondo la terza riga cambia qualche cosa? prima di tutto non cambia molto perché io posso scambiare la terza con la prima allora fare lo sviluppo con la terza secondo la terza o fare lo sviluppo secondo la prima diventa la stessa cosa però a segni scambiato e quindi le proprietà valgono anche se faccio lo sviluppo secondo la terza riga ma a questo punto che significa che se questo lo dimostriamo dopo che di funzioni con queste proprietà ce ne sta una sola però siccome di funzioni con queste proprietà ce ne sta una sola e lo dimostreremo lo dimostreremo quando faremo il metodo del pv quindi quello lo dimostriamo in un altro modo visto che sviluppando secondo una qualunque riga le proprietà devono uscire fuori uguali è chiaro le proprietà non dipendono dal fatto che sviluppo secondo la prima secondo la terza secondo la cinquantesima allora in particolare tutti gli sviluppi secondo qualunque riga saranno uguali ok? per far vedere che poi coincidono pure con gli sviluppi per colonna poi ci servirà un'altra cosa che ci fa un'altra piccola dimostrazione che ci dimostrerà che i derivati della matrice della matrice trasposta sono uguali va bene adesso queste sono le proprietà del determinante quelle essenziali adesso andiamo a vedere delle altre proprietà del determinante queste che chiameremo derivate perché si ricavano da queste essenziali adesso queste le andiamo a scrivere di seguito per una ora 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 altre proprietà del determinante a K sarà R o C quindi le matrici per queste proprietà le prendiamo reali e complessi quindi vi ricordate 1 è lineare, 2 è alternare, 3 è determinante la matrice identica qua 1 adesso 4 se una matrice ha due righe uguali il determinante è 0 questo è banale perché? c'è due righe uguali se scambio le due righe che deve succedere al determinante? deve cambiare i segni ma se scambio le due righe uguali la matrice cambia? allora ottenete che il determinante di A è uguale a meno il determinante di A e quindi il determinante di A deve fare questo in realtà vale perché le caratteristiche cambiano diversa però vale ok lineare del 5 5 se sommo ad una riga una combinazione lineare delle altre righe delle altre righe il determinante non cambia per quale motivo? scusate no no ok il determinante non cambia per quale motivo? la matrice A era fatta così A1 A2 AI AN la nuova matrice chiamiamola A' com'è fatta? A1 A1 fino ad AI meno 1 sono uguali a posto di AI ci devo mettere AI più somma di lambda J AJ per J diverso da I J che fa da 1 AN non lo scrivo per brevità poi ci metto AI più 1 AN allora come vedete le righe fino alla I meno unesima e dalla I più unesima in poi sono rimaste uguali per la proprietà numero 1 noi sappiamo che il determinante è una funzione lineare di qualunque riga e quindi anche della righe ies quindi il determinante di A' è uguale al determinante di A di questa somma attenzione qua c'è la combinazione lineare ma qua AI c'è il coefficiente davanti che pari a 1 perché se qua ci metto 3 il determinante cambia sarà moltiplicato per 3 ma io cosa ho scritto qua? che sommo ad una riga quindi quella riga non la tocco una combinazione lineare quindi ce la posso moltiplicare pure per lambda J delle altre righe chiaro? quindi viene il determinante di A più somma per J che va da 1 AN J diverso da I per il determinante di che cosa? A1 qua ci metto lambda J che ho portato fuori e poi qua ci metto A1 AI-1 qua ci metto AJ poi ci metto AI più qua ci metto AN ma che succede a questa matrice? non ho fatto altro che portare fuori la combinazione lineare lineare ma questa matrice qua al posto della riga I ha la riga AJ al posto diagonico però la riga J siccome J è diverso da I deve comparire pure dall'altra parte al posto suo per esempio per esempio se I è uguale a 5 e J è uguale a 9 la riga 9 sta al posto di A5 però poi al posto A9 ci sta la riga 9 quindi questa matrice qua tutte queste matrici che otteniamo qui come sono fatte? hanno due righe uguali e allora la determinante fa 0 quindi si cancella e quindi rimangono i determinanti di A ok andiamo a vedere queste due proprietà nella pratica allora andiamo a fare i determinanti di questa matrice qua allora quanto fa? sviluppiamo la seconda della prima riga uno per uno uno fa due più due per uno meno tre fa meno due due per meno due fa meno quattro quindi viene meno due adesso andiamo a fare il determinante di allora facciamo tre volte uno uno meno uno più due volte tre tre uno uno quanto fa? tre più tre più sei fa nove tre più due fa cinque meno tre più due fa meno uno allora sommiamo questa riga alla prima riga dieci cinque uno 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 meno uno tre quindi cosa ho fatto? che ho fatto ho sommato alla prima riga una combinazione lineare un multiplo della seconda più un multiplo della seconda più un multiplo della seconda ci siamo fino a qui andiamo a ricalcolare il determinante Allora questo qua fa 10 per il determinato di 1, meno 1, 1, 1, meno 5 per il determinato di 1, meno 1, 3, 1, più il determinato di 1, 1, 3, 1, quindi qua viene 1 più 1 fa 2, 10 per 2 fa 20 1 più 3 fa 4, 5 per meno 5 fa meno 20, 1 meno 3 fa meno 2, quindi 3 è rimasto, meno 2, lo vedete che non è cambiato? Quindi 3 è rimasto, non cambia, qua ci potete sommare pure il centruplo di questa, oppure ci sottraverete 50 volte questa, quello che vi pare, 3 è rimasto, non cambia Ma attenzione, se io vado a fare qua 2 volte, 1, 0, 2, più 9 volte, più 9, 5, meno 1 Questo vi fa 11, 5, 3 Il determinante stavolta quanto fa? Allora se vi ricordate fa 11 per, quella determinante faceva 2, quindi viene 22, meno 5 per 4 che fa 20 come prima Poi più 3, poi più 3 per meno 2, quindi qui viene 2, meno 6 che fa meno 4 Ah, il determinante è errato? Perché? Perché stavolta la combinazione lineare, vedete come è fatta, 2 volte la prima riga, più 3 volte la seconda riga, più 2 volte la terza riga Lo metto al posto della prima riga Allora, alla prima riga ci potete mettere, ci potete sommare i multipli della seconda e della terza quanto vi pare a voi E il determinante non cambia, ma se la prima riga la raddoppiate, il determinante raddoppia Perché io in questo caso sto raddoppiando la riga che già ci stava qua E il determinante essendo funzione lineare delle righe, se quella riga la raddoppia, il determinante raddoppia E' chiaro come funziona? Non è difficile Il determinante è una funzione lineare di ogni righe Il determinante è alternato, il determinante della matrice è F1 Ok Adesso Prima di vedere le ultime proprietà Cioè, le ultime proprietà sono che tutto quello che vale per le righe vale pure per le colonne Poi il determinante della matrice e della matrice trasposta E' uguale Però questo poi lo voglio vedere con calma Ma lo vediamo tra l'altro meglio con gli esercizi oggi pomeriggio Voglio invece cominciare ad accennare al metodo del pivot Allora, il metodo del pivot Cominciamo Allora, noi faremo il metodo del pivot Per il calcolo del determinante Il metodo del pivot per la decomposizione LU E il metodo del pivot per il calcolo della matrice investita La composizione LU varrà anche per le matrici non quadrate Invece La Il calcolo della matrice inversa Se il determinante di A è di calcio da 0 Si può fare solo per le matrici non quadrate Però questo Adesso Noi facciamo il caso più semplice Adesso partiamo con un esempio Poi lo rinunceremo in generale Partiamo con il calcolo del metodo Partiamo con l'illustrazione del metodo del pivot Per il calcolo del determinante Allora Ripartiamo da questa matrice qua Allora, noi sappiamo Che se noi sommiamo a una riga Un multiplico di un'altra riga Il determinante non cambia Allora, cosa faccio? Prendo questa riga La prima riga la tolgo dalla seconda La prima riga la motiva Così questa Era Rimane uguale Quando faccio questa Meno questa Mi viene 0 1 Meno 3 Ho fatto questa Meno questa Poi qua Poi qua Lascio Faccio tutti i passaggi 3 1 Va bene? Fino qui E' cambiato il determinante? No Perché io ho tolto Dalla seconda 8 8 8 La prima Adesso Dalla terza Togliamo 3 volte La prima Allora 1 0 2 0 1 Meno 3 Allora 3 volte La prima E' 3 0 6 Quando vado a fare la differenza Viene 0 1 Meno 5 Oh Cosa ho guadagnato Adesso Che Sulla prima Colonna Al di sotto Della diagonale Principale Ci sono Tutti i 0 Quindi Se io volessi sviluppare Il determinante Secondo la prima colonna Per esempio In questo momento Questo mi fa 1 per Meno 5 Più 3 Che fa Meno 2 Vedete che il determinante Non è cambiato Rimasta sempre Meno 2 Adesso Posso anche Continuare Posso fare così 1 0 2 0 1 Meno 3 Posso fare Questa Meno questa Quando mi viene 0 0 Meno 5 Meno 3 Fa Meno 2 A cosa sono arrivato Sono arrivato A una matrice Come si chiama Questa Questa qua Una matrice di questo tipo Si chiama Matrice triangolare Superiore Che cos'è Una matrice triangolare Superiore Allora abbiamo Abbiamo una matrice A In cui tutti gli A e J Sono uguali a 0 Se I è maggiore di J Se stiamo al di sotto Della diagonale principale Che vuol dire Vedete I sono 0 A2 1 A3 1 A3 2 Cioè quando I è maggiore di J Una matrice del genere Si chiama matrice triangolare Superiore Naturalmente deve essere Innanzitutto quadrata Matrice N per E Triangolare superiore Allora Proposizione Se una matrice Triangolare superiore Allora Il determinante di A E' uguale al prodotto IA in sulla diagonale Cioè è uguale A1 1 Per A2 2 Per A in N Cioè I matematici Si dilettano a usare I simboli Il prodotto per I Che va da 1 a N Di A in Questo qua si chiama Produttore Di greco maiusco Il simbolo di produttore Quindi per fare il prodotto Tutto quello che sta scritturando Quindi Invece di scrivere A1 1 Per A2 2 Per A Per A2 3 Fino ad arrivare a N E scriviamo Ok Questa proposizione Come si dimostra Secondo voi? Per induzione Per induzione Io prendo A1 1 A1 N 0 A2 2 A2 N 0 0 A3 3 A N N Qua stanno tutti in 0 Allora Questo determinante Sviluppando secondo la prima colonia Ma è anche uguale A1 1 Per il determinante Di chi? Di A2 2 A2 N 0 A3 3 Sviluppando A3 N Poi qua ci stanno tutti in 0 E qua Arriviamo da N A1 1 Per il determinante Cancello la prima colonna Cancello la prima riga E rimane questa matrice qua Questa matrice qua Per lei è triangolare superiore Per lei è di ordine N-1 Quindi il determinante Di questa matrice È il prodotto Degli elementi Sulla diagonale Pertanto Pertanto Viene A1 1 Per A2 2 Per il prodotto Per il prodotto Fino a O È molto simile a come Si illustrava Che il determinante La matrice identica Facesse O Semplicemente La potevo sviluppare Secondo la prima riga O la prima colonna È la stessa cosa Qua devo sviluppare Secondo la prima colonna Qui dovrei aver già fatto vedere Che lo sviluppo Secondo le righe Secondo le colonne Poi O 5 Ok Allora Però Torniamo indietro Vediamo un po' Se questo metodo Vi piace Cioè Io cosa ho fatto Ho cambiato La mia matrice L'ho cambiata L'ho cambiata L'ho cambiata L'ho fatta diventare Triangolare Triangolare Ma se è triangolare È facile fare il determinante Perché basta fare Il prodotto di elementi Sulla diagonale E uno potrebbe dire Eh ma tu per fare Tutte queste operazioni Ci hai messo più tempo Che si è calcolato Direttamente Deremi Fermo Qua Quante operazioni Ho dovuto fare Passate da qui a qui 3 Che ho dovuto Prendere Queste Questi tre elementi E togliere Da qui Poi Quante operazioni Ho dovuto fare Qua Altre tre Perché ho dovuto Prendere questa Cioè Prendere questi elementi Moltiplicati per tre E poi toglierli da qui Ok E qui Altre tre Ci ho dovuto fare Queste Quindi 3 3 6 3 9 In più Alla fine Devo fare Una decima operazione Che devo fare Il prodotto In diagonale Allora Vediamo un po' Se lo faccio Con una matrice In generale Quando Voglio Togliere Un multiplo Della prima Della seconda Quante operazioni Devo fare M Erano tre Perché la matrice Era tre per tre Ma se no Devo fare M Quante volte Lo devo fare Qua ho dovuto fare Due volte Vedete 3 per 2 Perché le righe Sotto la prima Sono Erano due Ma se lo voglio fare In generale Devo fare N Per N Meno 1 Poi Qua ho dovuto fare Un'altra Altre tre operazioni Perché 3 per 1 Perché Qua c'era una solo riga Che era La terza Che era dopo la seconda Quindi devo fare Di nuovo N Ma stavolta Per N Meno 2 Cioè lo devo rifare Un'altra volta Su tutto il processo Però per N Meno 2 Qua N Meno 2 Era 1 E ho finito Se la matrice Era 10 Per 10 Anzi Qua ho sbagliato E N Per N Meno 1 Io ho sbagliato In che senso Nel senso Che la terza operazione Non era No 3 Ma erano Due Perché alla fine C'erano 0 Quindi Quando tolgo Gli 0 Sulla seconda colonna Ho N Meno 1 Perché le posizioni Sono diventate N Meno 1 Per N Meno 2 Poi ce l'ho Più N Meno 2 Per N Meno 3 Più All'ultimo Saranno 2 Per 1 Quindi alla fine Saranno L'ultimo A dentro Sarà 2 Quando fa Questo Totale Circa Questo totale Circa Fa N Q Poderzi Circa Che qua Il motivo È un'approssimazione Qui è come se io facessi Qua invece di prendere N Per N Meno 1 Prendete N Quadro N Quadro N Meno 1 Quadro N Meno 2 Quadro Ecc Allora se fate l'integrale Da 1 a N Di X Quadro Quanto fa X Quadro Credeteci Quello dico io Questo non ho bisogno Di dimostrarlo Perché non stiamo a fare Analyse Un meno Fa circa N Quadro Quadro Allora Alla fine Poi ci dovete aggiungere L'operazione Per fare Sperdotti Diagonali Quindi le operazioni Da fare Per ricondursi A una matrice Triangolare Poi ci sono Delle eccezioni Che vediamo oggi Con l'esercizio Le operazioni Da fare Sono Circa N Cubo Terzi Sono tante Sono poche E rispetto Al metodo Di prima Sono molte Di meno Perché se N è uguale a 10 10 Fattoriale Quanto fa 10 Fattoriale Fa Milioni 39 36 Milioni Quella che è 8 Fattoriale 5 40 7 Fattoriale 5 40 8 40 320 362 3 Milioni 6 10 Fattoriale 11 Fattoriale 40 Milioni Quindi Una matrice 11 per 11 Devo fare 40 Milioni Di operazioni Dice Vabbè Che tanto Le fa il computer Anche Anche il computer A 40 Milioni Comincia a Faticare Però Diciamo che Le fa in Un secondo Però Se lo fate Con quest'altro Metodo 11 al cubo Terzi Quanto è 10 al cubo Fa 1000 Diviso 3 Fa 333 11 al cubo Diviso 3 Farà 400 Un po' più Di 400 Sono molte Di meno E se andiamo A 20 Per 20 20 Fattoriale Non sono milioni Ma sono milioni Di milioni E pure di più Quindi Se lo fate Con il metodo Standard Con la formula Di Laplace Una matrice 20 per 20 Anche con il computer Più potente Del mondo Non finite Per Natale Tra 300 anni Invece Se lo fate Con questo metodo Ci mette Una frazione Di secondo Perché 20 Per 20 Per 20 Fa 8000 Diviso 3 Fa meno di 3000 3000 operazioni Quello che le fa In un lampo Quindi In realtà Questo metodo Ci sembra Che ci dia La stessa Diciamo Che ci mettiamo Allo stesso tempo Ma non è così Ci sembra Perché le matrici Sono di ordine basso Sono 3x3 4x4 Quindi Su queste Matrici piccole Non si apprezza La differenza Ma se le matrici Sono molto grandi Questo metodo Che poi formalizziamo È estremamente Più veloce Più potente Della definizione Data col metodo Di Laplace La definizione Data con le formule Di Laplace Serve Per far vedere Le proprietà Del determinante Non serve Per calcolare I determinanti I compiuti Non calcolano mai Il determinante Con la forma Di Laplace Calcolano sempre Il determinante Con il metodo Il più Sempre Chiaro? Va bene